Eccoci qua. Ciao ragazzi, buon martedì. La settimana è iniziata, è iniziata ieri, è iniziata col botto, ma si era anche chiusa col botto quando la Juventus vende un giocatore come Matthijs Delit per forza di cose poi il giorno dopo. Deve esserci l'inferno in senso opposto. E dato che ieri proprio Matthijs è partito direzione Monaco di Baviera, dove andrà a firmare un contratto che lo legherà al Bayern Monaco, che sarà presto ufficiale, quindi attendiamoci anche da parte della Juve qualche comunicato. Ovviamente attendiamo anche qualche comunicato della Roma per Paolo Dybala, ma di questo avevamo già parlato nella live di ieri, che ho caricato, ricaricato qua sul canale YouTube, che è andata decisamente bene. E per questo vi devo assolutamente ringraziare, perché tutte le volte che ricarico un video di un'ora circa di durata, penso, ma chi è il matto che mai andrà a riascoltare tutto quello che avrò da dire? E tante persone, magari anche addirittura dal vivo, mi hanno detto, guarda, io anche mentre mi alleno mi metto le cuffiette e ascolto quello che hai da dire. E capisco perché io faccio la stessa cosa con altri content creator qua sulla piattaforma, non solo a tema calcio, anche su altri interessi storici che mi accompagnano. E quindi veramente mastico e mangio, fagogito, credo che il termine giusto sia fagogito, altri contenuti e spero sempre che siano il più lungo possibile. E quindi è questo che mi dà la possibilità di caricare con speranza anche i miei e alla fine vengono sempre visti e apprezzati. Quindi tutto questo giro soltanto per ringraziarvi per quello che state facendo, perché in questa calda estate di calcio mercato non mi lasciate mai da solo. E la stessa cosa posso dire io nei vostri confronti. Che cosa è successo ieri? Che a quanto pare la Juventus avrebbe superato l'Inter nella corsa a Bremer del Torino. Allora, con calma, un attimo, parliamone perché detta così sembra che oggi andiamo a chiudere. No, non è così. Anche perché io faccio un po' fatica a immaginarmi questi discorsi dei sorpassi. Non me le immagino le squadre su una pista come le macchine proprio in Formula 1 o le moto che si sorpassano una alla volta. Però c'è da ragionare un attimo su quello che sta accadendo, perché parliamo per ipotesi. Dato che non ci sono ufficialità, dato che la Juve non ha chiuso Bremer, la Juventus non ha tesserato Bremer, ma nel caso dovrà farlo il prima possibile. Se, e dico se, la Juventus dovesse poi riuscire a tesserare Bremer, probabilmente ci si ritroverebbe di fronte a uno scenario quasi inedito nella storia del calcio mercato italiano. Perché Bremer-Inter non parte questo mese, non parte a luglio, non parte nemmeno a giugno. Bremer-Inter parte forse da dicembre-gennaio, dicembre 21-gennaio 22, dove il Torino e Bremer decidono di rinnovare insieme e di inserire una clausola che partirà dall'anno prossimo veramente bassa, intorno ai 15 milioni di euro, che permetterà a Cairo di monetizzare in questa sessione di mercato. Perché il patto è stato semplice. Presidente, vado in scadenza, che cosa facciamo? Rinnovo oppure no? E Cairo gli dice, guarda, rinnova, rinnova in modo da poter monetizzare la tua sessione questa estate e se non dovessi venderti inseriamo una clausola che parte dall'anno prossimo molto bassa che ti permetterà di andare dove vorrai. Per fare un favore al Torino, Bremer firma e rimane con la promessa in mano di essere ceduto in questa estate alla squadra, alla quale poi andrà a candidarsi, a promettersi la sua squadra preferita, insomma. E fino a qualche settimana fa, come canta anche, come recita anche il coro dell'Inter, c'era solo l'Inter. E l'Inter non chiudeva. E sappiamo benissimo il perché. Eh, perché Skriniar è ancora lì. E allora se esce Skriniar, allora si fa Bremer. Ma se non esce Skriniar diventa complicato perché l'Inter in questo momento fa fatica a superare l'offerta della Juventus. Addirittura l'Inter in questo momento fa fatica a sottoporre la propria offerta al Toro per Bremer. Che è sempre quella famosa offerta di 30 milioni più Casadei, che è un giocatore della primavera dell'Inter, che non addirittura ha diritto di recompera dell'Inter. E non si è capito se ballano questi famosi 5 milioni di bonus. Insomma, questa dovrebbe essere l'offerta complessiva dell'Inter. Che però non è ancora stata ufficialmente formulata al Torino. Per questo non è stata ancora presa in considerazione dalla dirigenza del Toro. E per questo Bremer non è ancora a Milano per fare le visite mediche. E allora, questo continuo blocco è come quando aggiungete tanto sale nell'acqua. A un certo punto il sale non viene più assorbito dall'acqua. Diventa saturo. Ecco, immaginatevi un bicchiere pieno di sale che non viene più sciolto in acqua. Questa è la situazione Bremer-Inter. Anche perché Bremer non può stare a aspettare fino all'ultimo secondo. Il campionato inizia tra un mese. E allora, dato che la Juventus ha accelerato la cessione di Elite, ha incastrato questo discorso con il Torino per cercare di mettersi in posizione di vantaggio. Perché la Juventus era in posizione di netto svantaggio domenica sera. Ricorderete il video che ho fatto domenica sera in cui ero anche un po' triste e abbattuto perché vi dicevo, ragazzi, non ho idea di come la Juve possa in questo momento inserirsi in qualche trattativa per qualche difensore di livello. Perché sì, continuo a leggere tanti nomi, però nessuno mi stimola particolarmente. E devo dirvi la verità, sulla carta non mi stimola al 100% nemmeno Bremer. Perché ho tanti dubbi su Bremer. Ne abbiamo parlato anche ieri nella diretta. Vi risumo brevemente. Non ha mai giocato in Europa, non ha mai giocato per vincere trofei nemmeno in Italia, non ha mai giocato, non ha mai reso come ha reso negli ultimi due anni. Perché qualcuno l'altro giorno invece ha notato che in realtà Bremer non ha fatto bene l'ultima stagione, ma anche quella prima è un pochino più ridotta anche quella prima ancora. Allora sì, quella prima di questa ha fatto 5 gol in Serie A, quindi sicuramente ha fatto una stagione di livello. Ma nell'ultima stagione in particolare, anche in fase proprio di marcatura da difensore puro, ha fatto vedere cose che non si erano mai viste negli anni precedenti, quindi ha avuto un ulteriore salto di qualità. Ma in una difesa 3 e con un tipo di gioco in cui lui si poteva permettere di staccarsi sull'anticipo, come avveniva nel Toro di Juric. Proprio ieri sera ho rituitato gli highlights della partita di Bremer in Torino-Juventus, dove abbiamo Vlaovic. Me lo ricordavo che Vlaovic era stato bullizzato letteralmente da Bremer, però rivederle proprio soltanto quelle azioni fa impressione. Poi è vero che a Vlaovic ci sono arrivati soltanto palloni lunghi e basta, e quindi era abbastanza complicato. Ma Bremers si è mangiato Vlaovic e ha fatto degli interventi, anche doppi interventi da solo contro due giocatori da Juventus, che per quanto possa avere dei dubbi, e ribadisco ce li ho, il valore individuale del calciatore rimane molto alto, e quindi penso che possa riuscire ad adattarsi anche a un contesto difensivo differente. Poi queste sono soltanto le mie posizioni, come sono posizioni quelle di altri tifosi che me lo paragonano ad Ogbonna, ma vorrei capire il perché, perché ieri veramente si è diffusa questa ondata di paragoni tra Bremer e Ogbonna. Ma per quale motivo? Perché è un difensore centrale? Perché è un difensore centrale che gioca nel Torino? Perché è un difensore centrale che gioca nel Torino e può andare a Juve? Perché è un difensore centrale che gioca nel Torino e può andare a Juve ed è di colore? Per quale motivo Bremer dovrebbe essere uguale a Ogbonna? Per quale motivo? A caso, così come Chiesa, dato che passava dalla Fiorentina a Juve e si chiamava Federico, era un Bernardeschi 2.0? E questo è il livello sotto il quale riusciamo a battezzare il livello di un calciatore, non per quello che fa in campo, per quello che ha fatto in precedenza un calciatore con caratteristiche simili come il nome o il colore della pelle in una determinata squadra prima di era la Juve? Secondo me sembra la follia, se ragioniamo sotto questi standard. Poi, io non libero di fare quello che vuole, però Bremer e Ogbonna sono due giocatori completamente diversi. E comunque, mi auguro che, dovesse arrivare a Bremer e a Juventus, possa vincere, non so, quanti scudetti ha vinto Ogbonna con noi 2, 3, 4, non me lo ricordo neanche più. Sarebbe bellissimo altri 2, 3, 4 scudetti con Bremer. Ci metto la firma. Ad ogni modo, la Juventus, sentendo l'odore del sangue dell'Inter e vedendo che c'era la possibilità di inserirsi, ribadisco, prendiamo sempre con le pinze, siamo sempre nel campo delle ipotesi, ma a quanto pare, inserendosi, aumentando l'offerta rispetto a quella dell'Inter, e quindi presentando 40 milioni, e a quanto pare qualcosina in più legato ai bonus, diretto, in mano, al Toro, e offrendo uno stipendio più alto di quasi un milione, che è un milione di bonus, che dovrebbe essere facilmente raggiungibile, dovrebbe essere 4 più 1, ma è comunque più alta rispetto all'offerta dell'Inter. Io inserisco anche un altro piccolo dettaglio, che sembra piccolo, ma potrebbe fare la differenza. non dovrebbe nemmeno traslocare. Immagina di essere un calciatore brasiliano, arrivato in Italia, fermatosi al Torino per 3 stagioni, 4 stagioni e 3,5, quelle che sono state, in una singola città, come quella di Torino, per poi riuscire a passare la Juve senza dover cambiare le abitudini, nelle quali Terri è ormai, scusate il gioco di parole, abituato, perché non penso che sia facile per un giocatore brasiliano ambientarsi anche nel campionato italiano traslocando sempre. Ribadisco, è un dettaglio piccolo, non è quello che fa girare, allora la preferenza va lì. No, non è quello. Però anche solo immaginare di non doversi nemmeno spostare, o comunque se ti vuoi spostare per prendere una casa più grande adatta alle tue esigenze, lo devi fare all'interno della tua stessa città dove ormai conosci bene o male tutto, Bremer potrebbe davvero, a questo punto, decidere di diventare un calciatore da Juventus. Piccolo dettaglio, ieri doveva esserci un incontro tra Inter e Torino per cercare di capire che cosa stava accadendo. Qualche spiffero, che poi qui possono essere malelingue, possono essere soffiate, può essere qualsiasi cosa, io lo riporto per doveri di cronaca, poi scegliete voi se crederci che tipo di peso dargli, ma secondo me quando accadono queste cose, cioè quando in 24 ore una squadra, la tua squadra rivale, riesce a sorpassarti in una trattativa che dura da sette mesi, non devi passare dei bei momenti. A quanto pare, ieri Marotta continuava a chiedere al Torino di rispettare gli accordi presi in precedenza e di accettare l'offerta dell'Inter facendo leva anche sul calciatore che aveva dato la disponibilità al trasferimento. Però ribadisco, se poi dall'altra parte arriva un'altra squadra che offre di più sull'unghia, te li do adesso, offre di più il calciatore e riesce a dare al calciatore quella preferenza in più rispetto all'altra squadra, ragazzi il mercato è fatto di queste cose. Non è che c'è un patto d'onore e d'orgoglio, stiamo parlando di trasferimenti in ambito di calcio professionistico. Paghi, c'è un'asta, si scatena l'asta e lì è al massimo il toro che si sfrega le mani. Però non esiste che eh però tu mi avevi detto che cosa siamo? All'elementari e quindi non ti invito al mio compleanno Cairo se poi non dai bremer all'Inter. Siamo davvero a questi livelli. E dato che ieri doveva esserci questo incontro per la chiusura e sembrava veramente l'incontro definitivo e che poi è saltato doveva essere alle 14, poi alle 18, poi ad orario di cena e poi alla fine per il momento non si farà, ci sono due strade che mi viene da dire possono essere quelle giuste per l'Inter. Perché l'Inter in questo momento non incontra il toro? Per due motivi. Uno può essere appunto questa volontà dell'Inter di far capire al toro che questa è l'offerta prendere o lasciare accettare dare anche un po' di disinvoltura per mettere il toro spalla alla porta e far leva sulla morale che ribadisco conta meno di zero in questi contesti. La seconda è perché probabilmente Marotta sta incontrando i piani alti dell'Inter quindi il presidente è chi caccia i soldi detto papale papale terra terra per quanto riguarda l'Inter facendo leva sul fatto che se non si alza l'offerta se non si pareggia o addirittura si supera l'offerta della Juventus la Juventus è pronta a chiudere forte del fatto che il Bayern Monaco ha buttato nelle casse bianconiere soldi freschi che mettono la Juventus in posizione di vantaggio. La differenza grossa rispetto a ieri è che oggi sembra che davvero sia Bremer che il Torino potrebbero accettare l'offerta della Juventus la preferenza della Juventus il Torino per un discorso meramente economico senza contropartite tecniche senza bonus articolati per avere 40 milioni di euro da mettere in saccoccia Bremer per un discorso di comodità come dicevamo prima economico e forse pure di progetto perché a quanto pare Bremer ha avuto la possibilità di ascoltare quello che è stato il progetto dell'Inter e quello della Juventus ora non ho idea di quali siano i due progetti io non ero presente non so nemmeno com'è andata sta cosa non so che cosa si siano detti però è un insieme di cose che crea la preferenza del calciatore dall'altra parte io voglio concludere con una riflessione perché Davom ha toccato un punto interessante in uno dei suoi ultimi video dicendo questa partenza di De Ligt sommata alla partenza dell'anno scorso di Cristiano Ronaldo deve essere anche una sorta di rabbia positiva che ci accompagna per dimostrare a questi calciatori che hanno fatto male a scegliere di andare via dall'Aventus hanno sbagliato e allora qua voglio concludere con una riflessione e vi chiedo di ampliare un po' i vostri orizzonti per quale motivo i calciatori Ronaldo e De Ligt quindi calciatori con appeal con status internazionale hanno chiesto l'accessione alla Juventus negli ultimi due anni ma la domanda più importante che vi rivolgo è la seguente è stata chiesta l'accessione dalla Juventus o dalla Serie A e davvero vi chiedo apertura mentale cioè non fermatevi per cortesia alla risposta hanno chiesto l'accessione alla Juventus perché c'è Allegri quella non è una motivazione può essere una motivazione ma molte volte è una vostra motivazione io stesso non sono soddisfatto di quello che ha fatto Allegri l'ultima stagione ne abbiamo già parlato tante volte ma quella non può essere una risposta vi chiedo si sta scappando dalla Juventus o si sta scappando dall'Italia perché pensare veramente che Koulibaly e Koulibaly ed Elite che sono probabilmente i due centrali difensivi più forti insieme a Skriniar in Serie A sono partiti e che Skriniar e lì lì per trattare col PSG un'offerta anche questa molto alta ma che sposterebbe un altro centrale al di fuori e stiamo parlando solamente di difensori senza considerare tutti gli altri ruoli sarebbe una dura perdita per il campionato italiano e quindi da cosa si sta scappando perché si sta scappando si vuole lasciare la squadra o si vuole lasciare la Lega perché cambia su due cose differenti e questo potrebbe portarci ad altre considerazioni e sviluppi futuri che non c'è tempo di raccontare in questo video io vi lascio qui sotto lo spazio commenti per appunto lasciare la vostra opinione sono curioso di sapere le vostre risposte all'ultima domanda e soprattutto che cosa ne pensate di questo sgarbo che potrebbe veramente concretizzarsi è clamoroso pensare che la Juventus possa aver superato sette mesi di preferenze e trattative inter discorsi bremer inter torino ma a quanto pare siamo su questa linea oggi la Juventus sembra essere più avanti nella corsa bremer lo chiuderà incrocio le dita spero di sì e spero nel miglior tempo possibile